27 ottobre 2010, siamo al colle della Lassi, dove divide la valle dell'Elluo con la valle di Trovinassi, dalla parte di Grescionei. Qui è il colle, vediamo Iumetti, vediamo il segnavia, lì c'è il fuggio Coda 2 ore, Monbarone 1 ore 30, lì c'è il ballone dove siamo saliti. E là c'è il Monbarone, ecco il Monbarone, c'è un aero che sfreccia e qui c'è tutta la catena delle montagne della Val d'Aosta. Ecco vediamo il collega Enzo, detto con scritto, che sta facendo delle fotografie. E come dire, dal sentiero del tracciolino a qua, con qualche perdita di traccia, abbiamo impiegato 2 ore e 50. Direi che è un buon tempo, stando le difficoltà, adesso Enzo mi riprende un po', qui faremo una sosta un attimo. Io vado pianino perché tu gli dai troppi sbalzi, mi viene una bella ripresa. Allora, come sempre, in compagnia di questo esperto, come posso dire questo mio amico, abbiamo raggiunto questo bellissimo panorama invernale, quasi invernale, e lì abbiamo l'agrivola, la tersiva, la tersiva, il Montnery, Montgracet, la dame di Cialanzo, la dame di Cialanzo. Riprendevi, mando i saluti, un saluti, e a dopo. Il mare di nuvole l'hai fatto, lo faccio io. Metti la mano davanti e chiudi. 27 ottobre 2010, si continua la trasmissione dal colle della Lash, ecco vedete là in fondo, abbiamo costeggiato tutta la cima, e siamo risaliti qui su questa cima che si chiama Monte Rus, ecco vedete Enzo, vicino alla croce, manda un saluto. Il Monte Rus, era la parte più impegnativa della nostra gita, naturalmente ci ha agevolato molto i gradini e le corde messe dalle guide qui dalla Valle Cervo, là c'è il Mon Barone, qui c'è la Valle di Grassonei, lì c'è il Monte Mars, ecco il Monte Mars, lì vediamo il Mucrone, e là sullo sfondo, dietro Enzo, c'è il Monte Rosa, ecco il Monte Rosa, adesso Enzo mi riprende un po' anche lui, così, come ricordo anch'io, metterci di lì, ecco qui. Un saluto, un saluto dal Monte Rus, 2330, e un arrivederci, lì c'è il Monte Rosa, ecco vedete il Monte Rosa, prendi me, si prendo il Monte Rosa, lì c'è tutta la Valle di Grassonei, nel profondo, lì ci sono tutte le cime, fino al Gran Paradiso, fino al Gran Paradiso, ormai la neve siede su queste Alpi, e lì c'è il Mon Barone, ecco, Enzo adesso riprende il Mon Barone, ecco, grazie, ecco, grazie, grazie, grazie